C'è un grandissimo equivoco che da sempre attanaglia la comunità metallara è un grandissimo equivoco nel senso che i metallari non sopportano vasco anche i rocchettari molti rocchettari dire il vero bello eh grandi gli antrox ed è un grandissimo equivoco vi spiego perché se escludiamo la fase progressive degli anni settanta in italia il rock non se ne era mai filato nessuno determinate sonorità non esistevano e quando arrivavano arrivavano in ritardo o arrivavano poco ricordiamoci le zeppini al vigorelli come fini non erano tollerate comunque dal sistema e dalla maggior parte anche degli ascoltatori appassionati di musica se non appunto per brevi periodi brevi occasioni vasco è riuscito a sdoganare determinate sonorità a sdoganare le chitarre elettriche a sdoganare i super concerti giganti negli stadi le super produzioni internazionali ed è riuscito a far ascoltare a moltissime persone che a livello di cultura musicale non andavano oltre alla musica leggera italiana tradizionale le sonorità distorte la batteria potente non voglio entrare nel discorso delle lyrics dei testi fondamentali per capire bene vasco come mi diceva in anni non sospetti luca ma soprattutto ha fatto capire alle persone che c'era un altro tipo di musico un altro tipo di sonorità per veicolare comunque delle emozioni dei sentimenti e delle idee e poi soprattutto non si può parlare di vasco senza aver visto un suo concerto dal vivo poi per carità magari vi annoiate perché comunque questo signore ha 67 anni compiuti suona per due ore e mezzo va sul palco salta accanto ne fa di tutti i colori ma dal vivo vasco disintegra a livello di impatto frontale di potenza di band ha sempre avuto dei chitarristi virtuosi chitarristi eccezionali creativi e soprattutto negli ultimi anni da quando si sono diffuse anche delle pagine divertentissime tipo la svolta metal di vasco e il punto è che chi ha fatto anche queste pagine non ha mica capito che c'è stato davvero un indurimento un espessimento dei suoni sicuramente grazie a vince pastano sicuramente grazie al buon guido elmi scomparso qualche tempo fa questo indurimento di suoni è stato veicolato fondamentalmente da loro ma ma vasco piace questa roba piace l'hard and heavy e ha degli arrangiamenti che veramente chitarre ribassate sette corde su alcuni pezzi l'anno scorso sono rimasto sconvolto sempre qui a lignano dove mi trovo tuttora stasera c'è il soundcheck e fegato fegato spappolato aveva una pacca veramente a livello di industrial metal e quindi secondo me sarebbe veramente il momento di iniziare a rivalutare l'operato di vasco anche presso chi non l'ha mai potuto sopportare ma non tanto per una ricerca effettiva una prova d'ascolto un'analisi delle considerazioni contestualizzate e competenti insomma io un pensierino ce lo farei fossi in voi ne vale la pena e magari scoprite pure che spacca tutto io non posso definirmi un fan o un transista di di vasco ma mi definisco assolutamente metallaro e rocchettaro in quelli seri e vasco ragazzi pesta tantissimo e senza vasco molte delle cose che abbiamo potuto ascoltarci in italia senza troppe rotture di scatole non sarebbero non sarebbero mai arrivate rispetto per vasco so che molti metallari odieranno questa presa di posizione pubblica ma che io ho da sempre pur non essendo ripeto un fan o transista di vasco anzi le mie canzoni perfette di vasco sono c'è chi dice no e asilo republic ho credo sette otto dischi di vasco sono ben lontano ad essere un fan che ha collezioni eccetera eccetera l'ho visto al vivo sei volte credo sette con stasera però ritengo di capire qualcosina di musica pesante di musica in generale ma di musica pesante soprattutto e ripeto non parliamo di testi non parliamo di poetica di vasco che è innegabile soprattutto nei primi dischi vasco ha scritto delle cose meravigliose già dal finire degli anni 70 poi per tutti gli anni 80 è stato messo al bando considerato un reietto un drogato uno scarto della società ed è anche per questo che poi l'ha unita questa società così variegata che lo segue lo seguono persone che hanno più di 50 anni persone disadattate ma anche persone perfettamente inserite nella società che sono cresciute con lui lo seguono gli zarri per carità di dio che da metà anni 90 hanno preso a seguire vasco magari più per moda però lui si è meritato ogni singola parte di questo successo assurdo che ha è il fatto che comunque il metallaro medio ottusamente come fa anche con banalmente con i metallica dal black album in poi senza analizzare nulla senza prendersi la briga di capire anche perché sono state fatte determinate scelte stilistiche e preferisce catalogare il tutto come qualcosa di fastidioso di insopportabile da condannare poi magari se andate a vedere il concerto e vedete le fiamme vedete il mega palco e sentite gli arrangiamenti super heavy che ci sono adesso su alcuni pezzi che una volta aveva una malapena la chitarrina acustica capirete che in realtà è molto più simile a noi di quanto possiate immaginare basta io quello che dovevo dire l'ho detto adesso vado vado a mangiare poi stasera al concerto bella vasco